Alcuni pezzi di calcestruzzo che coprono il ferro nella parte sottostante il viadotto San Giacomo sulla 24 Roma Teramo nel tratto che attraversa l'Aquila si sono staccati nella serata di ieri finendo in via Gabriele Rossetti, arteria che si trova nel quartiere omonimo il viadotto Non ci sono stati feriti ad intervenire, sono stati i vigili del fuoco che sono entrati in azione con 5 unità e con l'ausilio dell'autoscala rimuovendo per una superficie di 200 metri le parti di copriferro che stavano per cedere Il tratto autostradale percorribile non essendo stati rilevati danni strutturali sul viadotto I vigili del fuoco hanno rilevato un degrado strutturale del calcestruzzo che copre i ferri tra l'altro ossidati in atto nella parte sottostante il viadotto e segnalato la situazione alla prefettura e al comune dell'Aquila oltre che a strada dei parchi Sulle due autostrade è stata effettuata una prima parte della messa in sicurezza con un intervento di antiscalinamento Sul tavolo il blocco dei fondi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale è in atto un contenzioso legale Cigel, Cisle, Will, Convindustria, Ance e Regione naturalmente parteciperanno alla manifestazione del 19 settembre a Roma presso la sede del Ministero Rappresentanti degli organismi di categoria del mondo sindacale riuniti questa mattina all'emiciclo dal Presidente Giuseppe Di Pangrazio Le richieste al Governo e al Ministero dei Trasporti sono di completare la messa in sicurezza della rete autostradale con stanziamenti puntuali la salvaguardia dei livelli occupazionali e la definizione contrattuale dei lavoratori addette alle infrastrutture Ulteriore battaglia da portare all'attenzione del Ministro Toninelli sarà quella legata al caro pedaggi Novità infine anche sull'impiego anticipato dei fondi del Masterplan dovranno essere dedicati alla messa in sicurezza delle infrastrutture regionali Noi possiamo mettere a disposizione parte dei fondi del Masterplan per opere che non sono così urgenti che le possiamo rimandare al 2020-2021 e poi ci vengono restituite quindi equivale a dire come un'aggiunta in più di finanziamento per la Regione Abruzzo in modo tale che i lavori possano continuare anche subito appena il Governo e i Ministeri competenti dicono che va bene Il consigliere regionale Mauro Febbo torna sul project financing per il nuovo ospedale di Chieti e lo fa nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il capogruppo di Forza Italia al Comune di Chieti di Ingiullo e il consigliere comunale provinciale Vitale A oggi c'è solo confusione, ha sottolineato Febbo mentre nulla si è mosso A questo punto intravede un probabile danno erariale nei confronti della Regione Abruzzo che potrebbe essere chiamata a risarcire i danni Dopo 58 mesi siamo al nulla cioè siamo ad una delibera assunta dall'aggiunta regionale il 9 luglio che dava 60 giorni alla alza per attivare le procedure una delibera dell'aggiunta illegittima perché mancano le firme che invece vengono dichiarate nella delibera e io questo l'ho denunciato alle autorità competenti dove c'è la firma di un direttore generale che a oggi risulta non avere i titoli per fare il direttore generale così come da sendenza del Tribunale dell'Aquila l'Alz di Chieti rinvia tutto dall'incarico ad un direttore amministrativo il 7 agosto sapendo che il direttore amministrativo il primo settembre va a Pescara quindi stiamo scherzando e stiamo parlando del nulla io di questo ne sono felice perché quello è un progetto che non aveva i piedi per camminare questo che viene approvato che avrebbero approvato oggi è un altro progetto che prevede una spesa di 605 milioni che è l'Alz di Chieti la regione Abruzzo non si possono permettere e lì il manufatto i due manufatti che sono stati realizzati con cemento imboverito restano là e con tutti i rischi del caso e di questo chiaramente la procura è al corrente voglio vedere se succede qualcosa chi ne risponde perché insomma qualcuno non può perdere 58 mesi inutilmente per correre dietro a un capriccio di un presidente che l'unica cosa che ha fatto in 58 mesi per la città di Chieti è 542 mila euro di asfalto tiene banco la questione relativa alla data delle prossime elezioni regionali in Abruzzo a parlarne è l'ex deputato di Forza Italia Fabrizio Di Stefano intervistato da Roberta Galeotti direttore del capoluogo.it seguiremo l'intervista tra poco nella rubrica Il Punto